Ciao a tutti e a tutti, oggi sono qui per parlarvi e consigliarvi una straordinaria e poco conosciuta raccolta di racconti che si chiama La Debuttante di Leonora Carrington. Ora, questa raccolta raccoglie tutti i racconti brevi scritti da Leonora, dagli anni 30, in cui appunto Leonora Carrington era nel coté artistico della Parigi surrealista, fino agli ultimissimi racconti scritti in Messico, dove la pittrice, scenografa, scrittrice, ma soprattutto anche attivista e chi più ne ha più ne metta, trova pace negli ultimi anni della sua vita e si spense nel 2011. Ora, ci sono diversi motivi per cui io vi potrei consigliare questi racconti. Innanzitutto si tratta di racconti molto godibili nel senso di assurdo che li popolano. Troviamo cavalli ammiccanti e seducenti che parlano e conducono giovani dame nel bel mondo e soprattutto le conducono verso la ribellione. Troviamo iene che parlano in francese, vanno sui tacchi e strappano facce ai camerieri. Troviamo pecore in gorgera, in tenuta d'alto, magnate e parlamentare. La cosa interessante, la cosa curiosa, è che Leonora Carrington nello scrivere questi racconti di matrice appunto surrealista attinge contemporaneamente a quello che è il grande canone della letteratura gotica e grottesca britannica, quindi il racconto dell'ambientazione gotica nella cupa casa stregata per arrivare all'assurdo di natura matematica la Lewis Carroll. Tutto questo Leonora Carrington lo fa per parlare tendenzialmente sempre della stessa cosa, la decostruzione degli stereotipi di genere, la lotta contro quello che è un sistema binaristico e patriarcale fin dai femminismi della primissima ondata, perché appunto ricordo che oltre che pittrice, scrittrice e scenografa, Leonora Carrington fu attivista ed ebbe una brillante carriera in quanto tale anche in Messico. Ora, io non mi spendo oltre, vi rimando direttamente alla lettura, non solo per il valore letterario di questi testi che restano estremamente godibili nella loro assurdità, ma anche e soprattutto perché si tratta di una decostruzione a cui tutti e tutte oggi siamo chiamati.